Allora direttore, intanto grazie per la sua disponibilità e innanzitutto tantissimi auguri per questo 2023 che sia davvero grande per tutti e per tutti. Grazie a lei e soprattutto rinnovo gli auguri aspettando che sia stato un felice nuovo anno e un sereno Natale, quindi un ringraziamento a tutti e auguri a tutti. 2022 a livello sportivo come lo possiamo valutare? 2022 a livello sportivo è stata una parabola che è partita con delle aspettative importanti poi ha subito un'oscillazione verso il basso e poi dal punto di vista tecnico, mettiamola così per avere poi una risalita nel rinnovamento che c'è stato a maggio. Ad oggi possiamo dire che sicuramente è stato un viaggiamo su un andamento estremamente abbastanza positivo su quelli che sono gli obiettivi prefissati da qui a fine campionato. Dal punto di vista finanziario è stato fatto un lavoro importante, c'è stata la continuità di un lavoro importante che si stanno vedendo i risultati in questo periodo. Ad oggi abbiamo risanato quasi completamente la società ed è stato chiuso un bilancio che pur avendo un disavanzio di 2 milioni e mezzo ma è positivo rispetto ai 6 milioni e mezzo della volta a stagione, quindi è come se in buona sostanza avessimo avuto un utile di circa 4 milioni. Questi numeri per quanto crudi però vanno a racchiudere quello che è stato il percorso dal punto di vista finanziario dalla società ed è chiaro che avendo una società forte e sana dal punto di vista economico diventa molto più semplice riuscire a programmare ed essere più sereni nella programmazione e nel raggiungimento degli obiettivi. Adesso questo 2023, dopo Poggi Bonzi si aspetta quella continuità dei risultati che deve premiare gli sforzi e i sacrifici. È in dubbio che ci aspettiamo una continuità, è in dubbio che ci aspettiamo di riprendere quel cammino che più che interrotto ha avuto un po' una fase di assestamento e forse le sei vittorie hanno illuso, ci hanno illuso che poteva essere un percorso molto più semplice ma è chiaro che essendo una squadra nuova, essendo una squadra che inevitabilmente doveva affrontare qualche processo di assestamento, forse è stato più lungo di quello che ci aspettavamo ma alla fine oggi siamo secondi in linea con quello che il nostro programma è il nostro obiettivo, secondi classifica, a tre punti dalla prima per cui direi che comunque è un percorso che sta andando nella giusta direzione. Il mercato, proprio oggi è stato ufficializzato l'arrivo del difensore? Il mercato, sì diciamo che sono previsti un colpo per ogni reparto e che vanno un po' a sostituire le uscite, direi che con gli ultimi, con quello che è previsto come obiettivo di mercato, con quelli che sono previsti come obiettivi di mercato, inevitabilmente si va ad aumentare la qualità della squadra, oltre che quantità, ma io direi dal mio punto di vista direi che aumenta un po' il livello qualitativo della squadra. Naturalmente l'Arezzo non è solo prima squadra, ma un settore giovanile dove in questo momento c'è una juniores che deve davvero, è la locomotiva trainata. Noi abbiamo sempre sostenuto che il settore giovanile dell'Arezzo deve essere un fiore all'occhiello, ma anche perché deve diventare un po' la cantera dell'Arezzo, per un motivo molto semplice, se non c'è un settore giovanile forte non si riesce a sostenere la società, è un'aiuta importante. Noi abbiamo investito tanto sotto questo punto di vista, stiamo ancora investendo su quelli che possono essere tutti gli elementi affinché il settore sia veramente autosufficiente e soprattutto che porti dei vantaggi dal punto di vista sia tecnico che finanziato in prima squadra. Quest'anno posso dire che il settore giovanile ha fatto un lavoro importante, tant'è che ci siamo ritrovati in prima squadra ragazzi del settore giovanile, parlo di stopponi così come altri ragazzi che abbiamo dato in giro, questo la dice sul lavoro che si sta facendo a livello proprio di settore giovanile. Qua io voglio ringraziare tutti i tecnici, tutti i responsabili, la Contus, la Pica e tutto il settore tecnico, che il loro lavoro per quando sia un lavoro abbastanza importante molto spesso non viene messo in risalto e io dico che il settore giovanile deve rappresentare il fulcro della prima squadra, un po' come avere una ruota e non avere l'asse della ruota, la ruota alla fine non funge alla sua funzione, questo deve essere il nostro settore giovanile. Mi ho visto che ci sono tantissimi tecnici bravi, preparati e ultimo, ma solo in ordine di tempo, l'arrivo di mister Violetti, uno che per la categoria è il top, almeno a mio modesto parere. Ripeto, tutti gli innesti che sono stati fatti su quello che andremo a fare, quello che andremo a sviluppare, sono proprio in funzione di avere un settore giovanile quanto più qualitativo possibile. Ripeto, deve essere veramente il fulcro della prima squadra e dispiace che alcune volte diciamo i loro risultati vengono un po' offuscati da quelli che sono i risultati finali della prima squadra, alla fine è sempre la regina sia nel bene che nel cattivo tempo, però è inevitabile che non possono essere messi in evidenza quelli che sono i numeri del settore giovanile, sia in termini di classifica che in termini proprio anche di partecipazione dei ragazzi. E di qualità tecnica, perché quest'anno ha sottolineato il fatto che era da tantissimi anni che i tecnici della prima squadra non si guardavano dietro al solamare, quest'anno c'è stata questa evoluzione inversa. Quest'anno c'è stata questa evoluzione, ma ripeto l'evoluzione c'è stata proprio in virtù di quello che si sta producendo anche in termini proprio qualitativi nel settore giovanile. E lo è pubblico, perché anche questo è un dato che è esattamente importante, dove la gente sta ritornando allo stadio. Nella prima conferenza stampa di Indiano in cui c'è stata la presentazione lui ha lanciato un messaggio importante dicendo che i tifosi devono stare allo stadio, devono essere presenti allo stadio perché sono quella marcia in più, quella forza in più di cui ha bisogno l'Arezzo. Condivido in pieno quello che è stato, quello che è il suo pensiero. Oggi abbiamo avuto una risposta importante, stiamo avendo risposta importante da parte della tifoseria, ma sia che sta accompagnando la squadra e che ha accompagnato la squadra anche nel momento di difficoltà. Diciamo che il loro apporto si è visto soprattutto in quel momento dove il pubblico non è stato un peso, ecco, come a volte può essere in alcune situazioni o su alcune piazze, ma bensì è stata quest'anno, posso dire che è stata una forza, è stata una forza importante che ci ha permesso di uscire un po' da quel momento leggermente non ottimale rispetto alla mia parte del campionato. Adesso il pensiero va a sabato, al Grosseto, e orecchio attaccato alle radioline perché la Juniors va a sabato che arriva l'Orvietana, e orecchio attaccato legato alla radiolina perché la Juniors va a Grosseto. Sabato noi dobbiamo riprendere dove ci siamo fermati il 21 dicembre, poi è chiaro che vanno viste e vanno analizzate anche tutte le altre partite, così come, ripeto, molto spesso o, ingiustamente, non viene dato il giusto merito a quelli che sono i ragazzi del settore giovanile. Direttore Ilan, grazie, è stato già attivista. Grazie a lei. Faccio migliorare i voli per vivere tutti insieme un grande 2023 e magari trovarci presto per continuare a parlare dei successi dell'Arezzo. Assolutamente, grazie e buona serata.